Ingegnere, qualche impressione sul seminario tecnico di stamattina e sulla tecnologia del sistema Imano? Buongiorno a tutti, sono Francesco, sono l'ingegnere della Cnauf e volevo ringraziarvi per questo invito. Stamattina è stato un seminario molto interessante con prodotti all'avanguardia e sistemi che sono molto integrati tra la tecnologia del light steel frame che IronDome sta progettando con grande competenza e il luscio interno ed esterno che noi riusciamo a dargli. Quindi credo che sia una partnership veramente azzeccata che mi dà anche la possibilità di scoprire un mondo che è molto performante e nuovo sia per noi che per il mercato. La ringraziamo per la sua partecipazione e ci rivedremo sicuramente nei prossimi seminari. Grazie a voi. Grazie a voi.